Alberto Cardillo, Assessore del Comune di Mascheli, candidato alle ultime regionali, 1124 voti personali. Un bel risultato per un candidato così giovane? Assolutamente, 1124 voti che non ritengo personali ma li ritengo di una comunità umana e politica che da anni si batte in nome della buona politica, in nome della corretta amministrazione, in nome della legalità, della trasparenza e del buon governo. Sappiamo che l'Italia e la Sicilia non sono particolarmente paesi volti a premiare la giovinezza, la freschezza, ma noi che facciamo politica da tanto tempo nella trincea della buona politica e siamo chiamati ad essere più realisti del re, sapevamo che sarebbe stata una campagna elettorale dura e difficile. La strada era in salita, lo sapevamo, però siamo soddisfattissimi del risultato. Ottenere 1124 voti in un quadro in cui non vanno a votare il 54% degli elettori, in un quadro in cui il voto d'opinione viene catalizzato dalla rabbia nei confronti del sistema e quindi attratto dal Movimento 5 Stelle, una candidatura come la nostra che rappresentava un mondo ideale, che rappresentava un mondo di giovani che fanno politica in modo disinteressato, in nome di idee portate avanti da decenni dalla destra, riteniamo che sia un risultato assolutamente importante. In questa campagna elettorale il dibattito è stato molto incentrato sugli impresentabili. Lei che è una persona più che presentabile, una persona giovane che porta avanti degli ideali, non le pesa che in questa coalizione poi ci siano state queste candidature e alcuni sono ora deputati? Guardi, il Presidente l'ha detto in maniera chiara, meglio perdere, disse all'inizio della campagna elettorale, 10.000 voti che perdere la dignità. Durante la campagna elettorale ha detto anche se sono candidati con me non votateli. La selezione non sono stati in grado spesso di farle ai partiti, perché i partiti sostanzialmente spesso non esistono più, sono contenitori. La selezione dovevano farla agli elettori, in alcuni casi purtroppo non è avvenuto, quindi se un impresentabile ottiene 10.000, 20.000 o 30.000 voti è perché nella nostra società ci sono 10.000, 20.000, 30.000 impresentabili. C'erano tantissime candidature ottime da poter premiare, alcune sono state premiate, altre no, alcuni impresentabili sono entrati all'Als, altri no. Adesso entriamo in una fase in cui il Presidente saprà tenere la barra dritta, ne siamo assolutamente certi e questo lo vedremo anche nella formazione del prossimo governo, sulla quale voglio dire che Fratelli d'Italia avrà un rappresentante in giunta, Fratelli d'Italia avrà un deputato eletto nel collegio di Catania, che è Gaetano Galvagno, il quale è nostro amico da tempo, lo conosciamo bene, sarà certamente al servizio anche del nostro territorio, che purtroppo anche questa volta ha perso l'opportunità di avere un proprio deputato. Voglio sommessamente far notare che un territorio che storicamente pesava politicamente meno di Giarre, come quello di Belpasso, ha eletto tre deputati regionali, Giarre ancora una volta zero. Ma io ritengo che la Presidenza di Nello Musumeci, che è legato in modo viscerale al nostro territorio, darà modo di far germogliare nuove figure politiche, nuovi movimenti politici che la prossima volta dovranno far maturare alla coscienza che dobbiamo avere un nostro rappresentante dall'Ars per difendere i nostri interessi. Sono certo che questo potrà avvenire.